Nel 2017, il mondo è stato scosso dall'orribile atto di violenza perpetrato da Steve Stevens, un uomo di 37 anni residente a Cleveland, Ohio. Stevens, in preda a una furia apparentemente inspiegabile, ha compiuto una serie di omicidi, il più noto dei quali è stato quello di Robert Godwin Sr., un anziano di 74 anni, innocente e casuale, mentre tornava a casa dopo il pranzo di Pasqua. Ciò che ha reso questo atto ancora più sconvolgente è stato il suo cinico desiderio di condividere la sua brutalità con il mondo attraverso i social media, caricando il video dell'omicidio su Facebook. L'atto di Stevens ha rapidamente raggiunto proporzioni virali, causando un'ondata di terrore e sconcerto tra gli utenti dei social media e la comunità in generale. La visione del video ha suscitato orrore e indignazione in tutto il mondo, sollevando domande urgenti sulla responsabilità delle piattaforme di social media nel prevenire la diffusione di contenuti violenti e disturbanti. Dopo aver pubblicato il video dell'omicidio, Stevens è diventato il bersaglio di una massiccia caccia all'uomo, con le forze dell'ordine locali e federali che hanno lavorato freneticamente per rintracciarlo e arrestarlo prima che potesse infliggere ulteriori danni. La frenesia mediatica che ha circondato la caccia ha alimentato ulteriormente la tensione e l'ansia tra il pubblico. Sebbene le motivazioni esatte di Stevens rimangano oscure, alcune informazioni suggeriscono che potrebbe aver agito in un impulso di rabbia, forse a seguito di dispute personali o relazionali. Tuttavia, anche se il movente specifico rimane incerto, il suo comportamento ha lasciato un eco di terrore e incertezza nella comunità. La caccia a Stevens è giunta a una conclusione tragica quando, dopo essere stato individuato dalla polizia, si è tolto la vita, sfuggendo così alla giustizia terrena. La sua morte ha posto fine al suo breve ma devastante regno di terrore, ma ha anche lasciato dietro di sé un'impronta indelebile di dolore e domande senza risposta. La storia del killer di Facebook rimane un tragico monito delle conseguenze reali che possono derivare dall'abuso dei social media e dalla mancanza di controllo sui contenuti violenti online. È un richiamo urgente per una maggiore vigilanza e responsabilità da parte delle piattaforme di social media, nonché per una maggiore consapevolezza e attenzione da parte di tutti gli utenti digitali. Solo con un impegno collettivo per la sicurezza e il rispetto online possiamo sperare di prevenire tragedie simili in futuro. Grazie per aver guardato questo video su Storie di Crimine. Se ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like, condividere il video e iscriverti al nostro canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Ci vediamo nel prossimo episodio.